Las Vegas è il mio libro, è uscito un anno fa, a giugno entrerà tra gli Oscar Mondadori ed è un libro che mi ha dato moltissime soddisfazioni perché è un libro che è andato molto bene che dimostra quante persone in questo paese hanno voglia di approcciarsi ad un'alimentazione più consapevole e l'alimentazione vegana è senza dubbio un'alimentazione consapevole. Ciao ai lettori di cittadinovara.com e rock'n'roll! Grazie a tutti!